I poteri è fantastico! Come hai fatto ad averli? Manuale! Questo manuale ha implicazioni metafisiche sconcertanti. Dobbiamo consegnarlo alle autorità preposte. Potremmo farlo! Ma non ti piacerebbe prima sapere quali sono i tuoi poteri? Ho dei poteri! Wow! Con queste capacità posso diventare una paladina della giustizia sociale. Oh cielo! Possiamo saltare questo livello? E dai, sarà divertente! Potrai fare del male a un sacco di cattivoni. Se ci sarà da fare casino! Quindi abbatteremo tutte le foreste di Springfield e trasformeremo ogni albero in un singolo stuzzicadenti di lusso. Bella idea, signor Mars. Solo una domandina. Questo non provocherà un disastro ambientale? Se vuoi fare un omelette, devi distruggere un paio di pianeti. Bendetto, signore. Bendetto. Ovviamente, se vuoi vedere i vulcani, devi andare sull'isola grande. Prendeteli! Le caprate! Non sapevo che la tua passione fosse così violenta. Dosi? Gli ambienti... Distruggere... Prendeteli! Ok, facciamolo. Assassini degli alberi! Media liberali! Così si proteggono questi stupidi alberi. E verde sia! Quello che vogliamo è rovinare il pianeta! Gli ambientalisti non capiscono. Tagliare gli alberi è bello! Non uccidiamo solo gli alberi, ma anche gli insetti che ci... Assaggiate la mia illuminazione! Eccoli là! Legnati! Baccia siepi! Non è stato fantastico? Stai andando! Ok! Stupidi ragazzini! Non male per una tipa! Fermatevi Non siete tornati sensibili Ti odio Vi ho proprio votato il sedere Fuoco alle polveri Carne fresca È ora di dare inizio alla festa Mangiate segatura Perché non te ne vai di qui una buona volta? E vai! Oh, davvero originale Che cosa spaventosa Rimbocchiamoci le maniche Qua questi? Oh, davvero originale Qua è la mia? Qua è la mia? Qua è la mia? Qua è la mia? What? Girl power! Finalmente! Siamo una spietata macchina ecologica! Spacchiamo tutto! Tollessi! Niente male Bart Proprio niente male Super Lisa Sussled Sass W300 Niente male Bart è tornato! Bart è tornato! Bart è tornato! Bart ha spianato la strada al fratello stupido! Ehi, sembra una rondine! No, sembra una ironia della corona gialla! Oh mio Dio, sembra una motosega! No, sembra una sega elettrica! Ehi, Carl, perché combattiamo così tanto? A volte credo che sia così perché non ci rimane altro! Rimbocchiamoci le maniche! Andate ad ammazzare baleni! Oh, davvero originale! Arriva Lisa! Come si può non amare il signor Burns? Allora... 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 Questa parte dovrà essere una meraviglia! Fuoco alle polveri! Qual è la... Laggiù! Cioè, laggiù! Facciami l'erba! Prendeteli! Guerrieri! Riuscite a giocare! Amanti degli animali! Affetta e tagliuzza! Questo è come quel gioco che piace a mia madre! Beh, molto originale! there... Questa parte! Questa parte. Sì, sì. 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 Sì.